Giacomo, caro Marmere, è una cosa che finalmente mi fanno tutti il nuovo vecchio. Mi ero un po' staccato di rappresentare i giovani, quanto per me i giovani veramente, come Giacomo, come caro Marmere, come te, complimenti dal lavoro che stai facendo, tra noi è molto più padre, perché mi ricordo da una cosa che ho fatto molto, perché la mente è, secondo me, un po' femminile o come i giovani di quel senso. No, quindi anch'io permettetemi, almeno, di prendere due parole, due degli giovani del Lunga che sono candidati della lente, come anch'io, sono candidato perché conosco da poco, ma mi hanno veramente molto ben impressionato, sono veramente molto impressionato da già, nella faccia che si arrivi insieme a Perugia e mi è passato poco, anche perché ho insegnato, da vari anni, per i giovani, un pochino, credo, i giovani di capire, di inquadrarmi, e credo veramente che sia un giovane su cui voi dovete investire, dovete investire, dovete investire, dovete investire ancora di più, perché certamente ha un ottimo avvento. tra l'altro, a parte il fatto che, professionalmente, in un po' già presentazione di vita della formazione universitaria, molto preparato, ma la mia simpatia nei suoi confronti è aumentata, quando ho detto stasera, questo piccolo, dato che Giacomo immagina una società che possa approvare, in piena cittadinanza, i sogni della nostra generazione. Io credo che un giovane che si andrà nelle liste del Partito Democratico parla di sogno, merda più il nostro segno e tutta la nostra simpatia, perché quando noi diciamo che abbiamo il nostro pragmatico, non vuol dire assolutamente non essere testi, non avere valori, non avere principi, quindi che sonopratici, non vuol dire! Ma che io, in politica? Faccio sempre questa decisione, perché sono dei politici che tendono a dirvi ecco come sono le volte, e vi dico perché. Sono altri politici che tendono a dire ecco come sono le volte e vi dico perché no? Io credo che noi democratiche e soprattutto ciò sono i democratiche che hanno bisogno di molto tempo quando vorrei parlar la politica e già sono di metterla in testa, perché oltre a essere molto separati ha usato anche la parola a sogno, e certamente questo merito che non ho usato. Non ciò che a me ha citato poco a Odieto, ma mi sembra che sia facendo un precedente lavoro come coordinatore a Odieto, la scena che ho realizzato, la scena che ho realizzato è evidente, il consenso ricerche da lui, e il consenso tra l'altro, in un'altra che non è facile convincere, convertire completamente al Partito Democratico, quindi certamente ha un'altra difesa che ha giocato molto come il ruolo di senza voi, però è una vita da leghiamo, ma non vogliamo fare un'altra vita da leghiamo, non vogliamo venire la volta. Comunque, questo solo per dire che certamente sono due prime scende che il vostro partito e il nostro partito ha fatto per quanto riguarda anche queste politiche. io sono diventato finalmente elettrico, non solo per questa sera, ma per qualche giorno fa, ho completato 40 anni, mi sono serò titolato del centro di unità oggi, se non avete visto quel bellissimo pezzo, mi ricorderò questa sera sul grado, quella vera frase di Ciccato che diceva, per diventare giovani, veramente giovani. Quindi, credo che abbiamo tutti quanti sull'azienda per diventare veramente, veramente giovani. La parola giovane, sì, non appare neppure tanto nel programma, perché ne appaginata di parola che spiega quanto è significato, quanto incredibile l'hanno proposta per i giovani, che è la parola mezza. Questa è la parola parziale, che deve interessare soprattutto i nostri giovani, che fa parte del nostro programma. Una parola vero che è certamente fondamentale per redare fiducia e fare ripartire, soprattutto, il mondo giovanile di vita. Io do sempre, già come da noi, perché hanno vendito queste cifre nella fiducia, però che ho sempre fatto sempre un confronto con i momenti di grande crescita, non solo economica, ma anche sociali, in un paese di realtà. L'ha interessata l'80% dei cifre aveva buone possibilità, buone conspettive di avere una condizione economica e sociale migliore del cifre. Allora, la percentuale cifre. Oggi, nel 2008, sono il 20% dei piedi italiani che ha concrete possibilità di migliorare la nostra condizione economica e commerciale nei controlli dell'oggi. Ecco perché, diciamo, la percentuale cifre è importante. Di questo 20%, voi chiedete a questo 20%, quali sono i criteri per poter vivere nel proprio lavoro, nella società, nel mondo delle protezioni, la maggior parte qui cifre, se sono veramente, se vi dicono veramente quello che penso, purtroppo. Per questo è grande la comandazione, o alle comuni e semplici. Ecco perché noi dobbiamo assolutamente invertire, dobbiamo veramente rompere con questo. E' meglio perché noi crediamo che il merito sia da mettere al centro il nome corretto, perché il merito è alla base di ogni città tante e di ogni città in effetti.